Se volete fare cose strane, saltate, ma evidentemente nell'avvento di scritto spazio e così quasi ogni modello, auto di lusso, voi direte tutte quante, sì, ma non la viene tra di cercare quanti servizi di replicare questi consigli anche su automobili più economiche servete anche un grosso bagagliaio, lui vi spiega come trovare...